La procedura per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, nonostante diversi incontri di coordinamento, la conclusione dell'iter istituzionale resta sospesa. A tutt'oggi infatti manca la firma per formalizzare e istituire il parco. C'è un porto delle nebbie da diradare. Che fine ha fatto il Parco Nazionale della Costa Teatina? C'è chi non lo vuole istituire? Esca lo scoperto e proponga una legge abrogativa della legge che ha istituito il Parco Nazionale della Costa Teatina. Noi siamo invece perché l'Abruzzo si doti di un quarto parco nazionale, così come prevede la legge. E non capiamo i dubbi, le obiezioni, le falsità che sono state diffuse. Addirittura qualcuno arrivò a dire che le attività agricole erano inibite. È assurdo. Si torna quindi a chiedere chiarezza attraverso, questa volta, una interrogazione. Crediamo che sia ormai giunto il momento di dire sì o no. Sì nel senso che se la legge è in vigore ed è in vigore una legge dello Stato, questo parco va istituito nel più breve tempo possibile e così dovrebbe agire la presenza del Consiglio dei Ministri, presso cui noi torneremo ad avanzare le nostre istanze. Se così non è, allora il Governo si assume la responsabilità di proporre una legge abrogativa di quella istitutiva. E allora lo diciamo chiaramente, questo parco non lo vogliamo. Basso è il comune più grande interessato nel parco, però naturalmente vale per tutti. Ci auspichiamo che non sia l'ennesimo argomento di campagna elettorale, visto che a Basso si vota. e vorremmo che questo invece già fosse una vittoria da scrivere per noi che vogliamo che il parco venga istituito, perché è il futuro del nostro territorio.